Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video oggi solo in versione grafici perché sono fuori, sono in viaggio ancora, non sono organizzato per la mia consueta sala produzione video e quindi ragazzi per questa settimana vi toccherà vedere video solo in questa modalità o poi se riesco ragazzi vi faccio qualche front dal cellulare. Ma volevo comunque produrre una serie di video di contenuti importanti perché è una settimana chiave quindi una settimana dove stanno succedendo delle cose estremamente rilevanti sia per la questione delle cripto ma soprattutto per la questione mondo con la guerra ucraina-russia che è diventata estremamente più vigorosa, più importante rispetto a quello che anche nelle anticipazioni poteva essere in quanto alla fine l'invasione c'è stata C'è stata tutta e questa invasione si è trasformata in una guerra in pratica attualmente commerciale, attualmente una guerra economica ma in partenza tra occidente e russia. Questa è una cosa abbastanza evidente ragazzi anche perché l'occidente in pratica in questo momento è tutto unito e fa fronte comune contro la russia. Sulla questione ucraina in pratica c'è anche stata qualche news legata all'accelerazione delle pratiche per far aderire l'Ucraina all'Unione Europea ovviamente fatto tutto in maniera tale che sembrerà poi diciamo un'invasione di un paese dell'Unione. Insomma è quindi tutto quello che è legato a quelle che sono le politiche di natura non bellica quindi non con le armi ma comunque molto distruttive, sanzioni, riduzione del potere d'acquisto, tagliare i viveri alla Russia in tutti i modi che l'occidente conosce senza buttare una bomba. E' la prima volta che probabilmente assistiamo a una cosa del genere e questo ragazzi ve l'ho detto nell'ultimo video che ho fatto venerdì sarebbe stata una cosa di questo tipo e così sta andando. Vedremo tra le altre cose oggi che un grafico in particolar modo sta iniziando anzi due ragazzi uno è bitcoin l'altro invece è una moneta fiat stanno iniziando a dimostrare proprio come questa guerra potrebbe avere da una parte una questione legata all'inflazione notevole che quindi va assolutamente monitorata tutta la questione oltre al discorso che come sapete è legato alla problematica della distruzione delle purtroppo morti che ci sono durante le guerre. Quelle sono le cose fortemente più importanti ma non parliamo insomma su questo canale di questo tipo di eventi politici e perciò ragazzi ovviamente ok che parliamo di grafici ma lo faccio sempre un po' con l'amaro nel cuore per la questione legata invece alla persone quindi alla vita umane che sono decisamente più importanti di qualsiasi cosa andiamo a fare quando guardiamo grafici facciamo analisi e parliamo di finanza. Va bene detto questo andiamo a vedere bitcoin perché già oggi sta dando una reazione importante oggi è l'asset che fa meglio di tutti proprio di quella che è stata una lista ragazzi che io ho già indicato sul mio canale twitter che è questa che vedete in questo momento cioè la lista degli asset contro l'inflazione o che potrebbero subire delle impennate a causa di inflazione alcuni di queste impennate altre invece diminuire e sta andando proprio verso questa direzione perché abbiamo l'incremento di bitcoin che riprende potere dopo l'incremento che era già stato fatto dalle scorse sedute di borsa quindi la scorsa settimana da parte del gold e del crude oil e della soia bitcoin si riallinea prendendo un po' la veste della commodity che tutti ci aspettiamo cioè il bene rifugio il bene che tutti ci aspettiamo questo che vedete intanto non è bitcoin ma era il rublo perché il rublo invece sta indicando l'altra faccia della medaglia lo vedremo tra poco però prima di andare a vedere che cosa sta facendo bitcoin con questo più 10 da un punto di vista inflazionistico parliamone da un punto di vista di analisi tecnica come sempre ed analisi ciclica perché poi è quello che dobbiamo portare avanti con gli aggiornamenti allora ragazzi questa era la struttura del ciclo mensile che ci attendevamo in chiusura intorno alla fine del mese di febbraio sembrerebbe aver chiuso il 24 quindi un ciclo di un paio di giorni più corto delle stime niente di che alla fine sono 31 giorni vi dirò già tra poco che potrebbe essere anche potrebbe anche mancare un ultimo pezzettino a questo mensile però questo candelone ragazzi di oggi un pochettino lascia ben sperare che la fase di ripresa dei mercati delle criptovalute potrebbe in effetti essere alle porte da un punto di vista infatti di app ok l'8-10% di questa giornata ma anche i volumi sono decisamente fuori norma c'è anche stata la questione che l'Ucraina ha beneficiato dei bitcoin proprio per le risorse umanitarie quindi la prima volta che si va a utilizzare una criptovaluta per quella che è la sua funzione addirittura di tutela della libertà dei deboli in questo caso appunto il proprio l'Ucraina è un po' più debole magari rispetto ad altri popoli insomma ragazzi veramente sono dati storici la prima volta che si viene a verificare una cosa del genere ieri ho twittato sulla questione che secondo me dimostra come le cripto sono nel bene e nel male appunto uno strumento di libertà e sembrerebbe andare in questa direzione quindi molto bello anche assistere a una cosa di questo tipo e soprattutto la prima volta che viene utilizzata in un ambito del genere una criptovaluta che sicuramente è l'unica valuta in grado di poter fare una cosa del genere in questo momento in Ucraina non ci sono altre valute fiat che riescono a farlo allora da un punto di vista di struttura del ciclo mensile siamo probabilmente in una fase di ciclo che teoricamente ragazzi dovrebbe essere chiuso intanto metto di nuovo la penna altrimenti non riusciamo con una struttura ciclica ternaria fatta in questo modo quindi 10 giorni 11 giorni 10 giorni un ciclo estremamente pulito estremamente semplice estremamente preciso un po' troppo preciso scusate ragazzi non piace un non piace mai vedere questa precisione dei cicli mensili mi aspetto sempre il trucchetto no la manipolazione dietro l'angolo e quindi sono ancora sul chi va là anche perché da un punto di vista ciclico anche se questo rialzo è imponente nella giornata di oggi in ogni caso non si può far partire un nuovo ciclo mensile in maniera proprio teorica proprio con la classica struttura ok 100% è partito se non sopra i 44 e 6 quindi molto alto insomma per entrare in questo frangente perciò ragazzi sto un po' attenta a questa situazione perché il mercato potrebbe ancora disegnare un miniciclo da qualche giorno e chiudere intorno magari al 6 7 quindi un altro 10 giorni un altro 5 6 giorni che insomma va a completare questa struttura certo con questo rialzo la questione diventa un pochettino più remota quindi l'idea che il mercato abbia chiuso qui il 24 il mensile si fa più probabile quindi io direi poi dando dei numeri alle due ipotesi direi che la probabilità che sul 24 di febbraio è stato chiuso un nuovo mensile è di circa il 60% la probabilità che il mercato vada a fare una struttura di un altro ciclo da 10 giorni circa più o meno intorno al 5 6 di marzo e vada a chiudere facendo una cosa del genere la do un po' più remoto intorno al 40% ma anche un po' meno ragazzi ok quindi siamo un po' più per la questione legata al mensile già chiuso da qui in poi ragazzi tutti i minimi sono buoni perché se questo mensile effettivamente è stato chiuso qui è più alto del minimo precedente del minimo di gennaio questo indicherebbe che c'è una buonissima probabilità che questo minimo di gennaio abbia sancito la chiusura del ciclo semestrale perché dico ancora probabilità e non parlo di certezza perché ragazzi essendo un ciclo semestrale che può arrivare anche a 220 giorni 230 giorni c'è ancora spazio fino a questa zona qui quindi fino a metà fine mese di marzo per assistere praticamente a una struttura di bitcoin che fa una specie di ciclo di raccordo che ve lo faccio vedere funzionerebbe proprio in questo modo con una situazione del genere poi questo è un ciclo di raccordo barra accumulazione per una nuova fase di ripartenza quindi solo e solo sopra i 44 e 6 siamo in una nuova struttura di trend di medio periodo confermata al rialzo fino a quando il mercato resta al di sotto di questo livello restiamo in una barra di congestione sembrerebbe in questo momento una barra di accumulazione per un'app che dovrà arrivare però non ne possiamo essere certi matematicamente perché abbiamo necessità appunto di avere i prezzi al di sopra di questo livello poi statisticamente abbiamo un low maggiore del low precedente un high se bucchiamo appunto questo livello maggiore del precedente quindi statisticamente avremo la certezza di un trend di natura rialzista poi quanto dura o non dura quello è un altro paio di maniche allora ragazzi andiamo a vedere prima di guardare Ethereum e Nasdaq e la total market cap della DeFi che cosa sta facendo andiamo a vedere invece la lista sulla inflation world del 2022 l'ho indicata così dove appunto Bitcoin sta iniziando questa settimana all'insegna del verde sul grafico di natura quickly quindi settimanale vedete che c'è un tentativo di ripresa ma vedete anche come nonostante ci sia stata una ripresa accettabile nella giornata di lunedì quindi questa settimana resta tutto sommato una settimana solo in partenza quindi ancora non è andata da nessuna parte cioè è una semplice oscillazione su e giù è vero che qui abbiamo una specie di mini trend però siamo sotto le due medie che sanciscono proprio un'inversione di trend non siamo riusciti neanche a bucare in questo caso la media 11 settimane quindi quella di un paio di settimane insomma ci vuole un po' di tempo ragazzi questa è la questione quindi da qui dire ok inverte il trend sta partendo va razzo non è giusto perché statisticamente è errato è vero che se qui è iniziato un nuovo ciclo mensile allora possiamo in effetti avere dei rialzi che sono un po' più consistenti ma c'è questo dubbio che ho ragazzi che non faccia proprio la stessa figurazione un po' che ha fatto qui prima della partenza del ciclo annuale questa 1-2 e quindi non vorrei che stia facendo un 1-2 fatto proprio nella stessa identica struttura di barra di congestione prima magari di una fase di trend vero quindi attendo ancora ragazzi trading va benissimo con questa volatilità ma position per mesi no quindi stiamo iniziando proprio oggi la nuova strategia di volatilità che faremo per il mese di marzo in academy ancora non ho valori precisi perché ci vogliono un paio di giorni insomma di marzo e poi magari ragazzi qualcosina ve la butto giù nei prossimi video se ci sono delle chicche interessanti vediamo anche che la struttura legata per esempio a crude oil che aveva fatto questo balzo in avanti anche a livello settimanale questa settimana inizia un po' peggio diciamo del normale però si sta continuando a comportare abbastanza bene il trend resta saldamente al rialzo la stessa cosa alla soia anche se ha invertito dopo il fake breakout della scorsa settimana ma invertito per caso ragazzi quindi bitcoin, soia eccetera e poi il rublo guardate il rublo che cosa ha fatto ragazzi quindi palesemente un'aggressione di natura economico-commerciale contro la Russia perché ragazzi vi spiego che cosa succede tutto quello che sono gli acquisti in dollari della Russia in questo momento sono stati puniti con un meno 32% di potere d'acquisto ciò significa che se la Russia deve andare a comprare generali alimentari qualsiasi cosa che non riesce a produrre da sola e deve pagarla in dollari dovrà pagare il 32% in più ogni tipo di produzione questo indurrà al 100% la loro economia in una recessione pesante perché ragazzi? perché non possono trasportare i loro beni all'estero in più il gas che magari loro vanno a vendere o se non vendono in dollari costerà di meno addirittura ragazzi quindi in pratica è un tentativo di impoverire totalmente la Russia allora questa cosa ve la dice lunga ragazzi perché una moneta fiat che fa un crash di questo tipo perché manipolata totalmente dalla finanza internazionale che tenta di abbassare il potere d'acquisto della Russia tenta di fargli un danno vedete cosa significa l'economia pilotata delle valute fiat ora lungi da me nel dire, nel fare complottismi, nel fare cose legate alla questione cripto siamo i superman e tutto il resto ovviamente a ognuno le proprie convinzioni, le proprie conclusioni ma in questo caso è assolutamente palese come una situazione del genere mette anche in buona luce, in gran risalto come le criptovalute sono essenzialmente delle valute che possono difendere da questo tipo di situazione non di meno è possibile proprio che il balzo di oggi possa essere dovuto proprio a volumi entrati su bitcoin proprio grazie alla questione russa ragazzi perché dico che è la questione russa? perché è possibile anche che magari qualche cittadino qualche super miliardario russo sia iniziando a proteggere i propri i propri averi, i propri patrimonio andandolo a trasferire, a trasformare magari in bitcoin perché dollari ovviamente d'euro non potranno mai comprarli ma in questo caso i bitcoin sì ed essendo rublo con, diciamo, soggetto a una guerra di natura svalutativa quindi tentando di svalutarlo in maniera importante come stanno facendo ricordate che le economie occidentali sono più forti da un punto di vista finanziario di quelle della Russia quindi è quello il vero potere lo stanno dimostrando in questo caso magari qualche super miliardario oligarca russo ha deciso di proteggere un po' di patrimonio e basta un nulla ragazzi per scatenare domanda su bitcoin a quel punto il pump è dietro l'angolo perché questi magari acquisti fatti così all'improvviso oppure necessari proprio causa bellica portano dei pump improvvisi perché non sono neanche controllati quindi sono fatti un po' a casaccio ovviamente solo a proteggere il proprio patrimonio quindi una ulteriore conferma in questo caso ragazzi che bitcoin sembrerebbe stare ritornando a quello che è il suo ruolo che tutti noi vogliamo che abbia cioè rifugio contro un'eventuale inflazione potentissima un'eventuale svalutazione delle valute non più però legato solo al dollaro ma legato anche alle valute di altri paesi quelli magari indeboliti in un determinato momento in questo caso la Russia che è attaccata da un punto di vista di natura finanziaria a differenza diciamo dei paesi occidentali che invece sono attaccati in questo caso l'Ucraina con i carri armati va bene andiamo a fare invece il punto sulla Nasdaq vediamo come sta reggendo Nasdaq questa è una settimana chiave secondo me per Nasdaq 100 perché la settimana scorsa ha fatto il flash crash poi la banca centrale sicuramente ragazzi sono intervenute qui magari lasciato non si vede bene adesso però è arrivato veramente qui in basso quindi il flash crash del genere non si vedeva dalla questione pandemica veramente bruttino la situazione di Nasdaq allora l'inversione di trend di breve c'è stata è anche confermata questi sono grafici di natura settimanale quindi il trend di medio periodo per quanto riguarda Nasdaq 100 è diventato ribassista con il break di questo livello di minimo l'ha confermato in maniera palese quindi trend di medio periodo ribassista se il mercato si riporta al di sopra di questa media mobile che vi faccio vedere che cos'è una media mobile semplicemente a 26 settimane quindi 6 mesi in sostanza di quotazione la media degli ultimi 6 mesi delle quotazioni se Nasdaq si riporta al di sopra di questa media c'è possibilità magari per un recupero per un rialzo al di sopra di questi livelli o una ripresa di un trend al di sotto di questa media la vedo difficile che il mercato possa aspirare chissà a cosa quindi in questo momento c'è una sorta di ripresa andiamo a vedere anche le politiche che la Federal Reserve dovrà secondo me anche andare a modificare proprio a causa di questa questione bellica abbiamo visto ieri le notizie del riarmo della Germania di cose veramente che non si vedevano da decine di anni tutto cambierà ragazzi secondo me tutto cambierà perché questa è una guerra vera ed è una guerra che non sembra possa essere risolta in brevissimo tempo speriamo di sì ovviamente vediamo cosa farà la diplomazia però qualora la Fed dovesse intervenire continuando la svalutazione ancora del dollaro proprio a causa delle sanzioni che colpiranno comunque anche l'Occidente molto in più la Russia ma anche l'Occidente a quel punto potremmo avere anche una ripresa di questo trend dei corsi insomma del Nasdaq fino ad allora staremo attenti abbiamo la possibilità che Nasdaq abbia chiuso un semestrale corto nella settimana scorsa quindi la fine del mese di febbraio perché aspettavamo questa close ve l'avevo indicato qui con 161 giorni circa ora ragazzi dire che in pratica da qui è già iniziato ancora è un po' prestino perché è un semestrale però sembrerebbe che questo questo swing a ribasso potrebbe in effetti contenere il tutto io aspetterò comunque una settimana questa qui attuale poi anche la prossima per vedere cosa fa questo mercato in ogni caso non opero in questo momento su Nasdaq da un punto di vista di trading proprio perché non mi piace l'attuale situazione guardiamo anche Ethereum che ha reagito un po' di meno di Bitcoin in questa fase però ETH anche lui sta dimostrando che può essere che qui in questo punto sia stato chiuso il ciclo di natura mensile perché qui vedete ETH è palesemente molto vicino al precedente massimo che è stato fatto il 26 febbraio mentre vi faccio vedere di nuovo Bitcoin su quest'altro grafico Bitcoin è lontano dai massimi intorno alla prima decade di febbraio perché questa zona è qui ragazzi quindi siamo molto distanti mentre nel caso di Ethereum siamo qui diciamo come questa fase del 10 di febbraio e quindi siamo molto distanti scusate ragazzi prima ho invertito i termini siamo molto distanti da questa zona di massimo rispetto a Bitcoin che è leggermente messo meglio ma comunque poco e niente in generale anche qui è chiuso il mensile su Ethereum sì o no questa cosa è un po' difficile da comprendere perché siamo a 31 giorni e anche in questo caso è possibilissimo che il mercato faccia un ciclo leggermente più lungo quindi la situazione ciclica di Ethereum in questo particolare frangente rispecchia la perfezione quella di Bitcoin ho un grafico su ETH che mi piace di più ragazzi ve lo faccio vedere nel prossimo video perché è il grafico Bitcoin ETH quindi ETH Bitcoin anzi che secondo me ha più valore dal punto di vista ciclico nei prossimi giorni perché non vedo una particolare informazione aggiuntiva guardando i grafici di Ethereum in questo particolare frangente che sembra può essere in fase di segugio di Bitcoin per quanto riguarda invece la total market cap della DeFi una fase di ripresa diversa rispetto a Bitcoin e anche l'Ethereum perché è molto più vicino al massimo del 10 febbraio che è questa zona qui quindi la total market cap della DeFi dimostra che la DeFi ancora vive vegeta piace tantissimo questo è un mercato che veramente piace tantissimo se non supera comunque queste due medie è un nulla di fatto ricordo che la struttura di breve periodo e medio periodo è stata inclinata da questo break quindi al ribasso il rischio che si vada sempre a completare questa figurazione del ciclo annuale in versione ribassista magari no ma magari barra di congestione e che quindi le Crypto della DeFi non riescono nel 2022 a superare questo massimo di novembre c'è quindi questa struttura ricordatevela che è la vera struttura ciclica delle Crypto della DeFi se non riescono a riprendere un trend dal di sopra di queste medie il rischio che vadano a accozzare diciamo in una situazione di questo tipo c'è e c'è tutto quanto quindi al momento però la Crypto della DeFi segnano un bel rialzo siamo a un più 8 per questo inizio settimana lunedì ovviamente la settimana è lunga bisognerà vedere venerdì dove sono messe ma le seguiremo seguiremo tutti i mercati nei prossimi giorni va bene ragazzi allora un video che non riesco a editare ma mi perdonerete sicuramente in questo caso vi ho detto un po' tutto quello che c'era da dire come la vedo io in questo momento noi ci rivediamo nel prossimo video lasciatemi però nei commenti tutto quello che pensate soprattutto come la vedete voi la questione della Ucraina cosa succederà secondo voi ai prezzi delle criptovalute e agli asset questa questione inflazione come verrà prezzata da Bitcoin scriviamolo nei commenti scrivetelo nei commenti ci confrontiamo come sempre per il resto buon inizio settimana a tutti ciao